Io cercherò ovviamente avendo 15 minuti di tempo di comprimere un po' tutto quanto da dire perché ho presentato questa presentazione ieri per l'Unitra di Milano per il corso Unitra Edo in un'ora e mezza. Adesso cercherò brevemente di riassumere. Questa ricerca nasce per la rivista Arthos, una rivista annuale di studi tradizionali ed esoterici, il cui numero appunto interamente dedicato a Dante per i 700 anni dalla morte di Dante uscirà tra poche settimane. La mia ipotesi di lavoro è che la Divina Commedia nei suoi tre canti lascia passare delle idee iniziatiche che si possono trovare in tutte le tradizioni antiche e io ho voluto appunto provare a fare dei confronti con le tradizioni orientali, cioè quella induista, buddista e sciamanica delle steppe eurasiatiche. Questa copertina che ho scelto come immagine esemplificativa ho messo il Baba Chakra, cioè la ruota del divenire indotibetana e una delle illustrazioni, mi pare che sia del 1540, questa illustrazione della Divina Commedia. Dobbiamo notare, adesso ve ne faccio vedere anche altre, che le prime illustrazioni della Divina Commedia, a partire addirittura da quelle del 1300, hanno delle connessioni iconografiche molto forti con la tradizione orientale, soprattutto quelle di Francesco da Barberino, eccone qua una molto esemplificativa, ho fatto il confronto visivo, di modo che possiate vedere, con il mozzo della ruota del divenire indobuddista, in cui appunto vediamo che da una parte vi sono le anime che ascendono al mondo celeste e dall'altra invece, questo su uno sfondo bianco, invece dall'altra metà del cerchio su uno sfondo nero ci sono le anime dannate che come vediamo vengono pungulate da un demone. Nell'illustrazione di Francesco da Barberino dell'Inferno Dantesco, anzi della Divina Commedia in realtà, perché vediamo che ci sono anche qui le anime che ascendono al paradiso, a sinistra, a destra invece ci sono le anime dannate che scendono all'inferno, in mezzo al mozzo della ruota, in questa illustrazione di Francesco da Barberino, c'è un fuoco infernale o una bocca di mosso demoniaco che ricorda molto anche questa l'iconografia orientale, mentre divora appunto queste anime dannate. Vediamo dunque già da questa illustrazione l'iconografia è molto simile con questi due cerchi concentrici, che tra l'altro sono metà bianco e metà nero in entrambi i casi, anche se fatte in maniera un po' diversa, e questa idea ascensionale e discensionale delle anime che appunto salgono e scendono negli inframondi dopo la dipartita fisica appunto. Tornerei un attimo indietro sulle slide adesso per leggervi un'altra citazione, anzi per leggervi una citazione, che è tratta da un'opera di Brunetto Latini, Maestro di Dante. In questo libro, Tesoretto, parla effettivamente dell'India in termini iniziatici, esoterici, come una sorta di Eden, di paradiso terreno, e noi sappiamo anche che il paradiso nelle culture tradizionali è collegato sempre con l'elemento dell'assialità, cioè del nord celeste, del polo nord cosmico. Effettivamente anche nella Divina Commedia, nella geografia sacra del cosmo, sottile per così dire, dei tre mondi, degli inframondi, troviamo questa caratteristica. Per esempio, quando Dante vede la stella polare con le costellazioni delle orse che vi girano intorno, e questo fa capire che il polo nord celeste, quindi, è il culmine della manifestazione cosmica, possiamo così dire. D'altra parte, se noi confrontiamo la letteratura orientale buddista, hinduista, che tratta di viaggi post-mortem, oppure di viaggi di operatori mistici, di oggi, di operatori tantrici negli altri mondi, vediamo che ci sono delle correlazioni molto evidenti, che, infatti, anche nelle tradizioni orientali possiamo vedere che questo viaggio dell'anima post-mortem, oppure appunto durante la vita da parte dell'operatore mistico sciamanico, ha queste due idee connesse, quella del viaggio nell'aldilà e quella della ritenzione dell'anima attraverso queste esperienze, e poi, infine, dall'uscita proprio dal gioco cosmico, per così dire, dall'ila, così si chiama nell'induismo. E si può anche collegare i tre inframondi danteschi ai tre guna della tradizione hinduista. I guna sono considerati gli elementi sottili, onicomprensivi e onipervasivi, che influiscono senza posa su tutta la manifestazione cosmica, influenzando e creando il karma di tutti gli esseri e quindi costringendoli a reincarnarsi continuamente nei cicli del samsara. Questi tre guna sono satva, rajas e tamas, che, come potete vedere nello schema che ho fatto, sono perfettamente sovrapponibili ai tre inframondi danteschi. E, cosa poi ancora più chiara, nella tradizione hinduista, questi tre elementi devono essere superati per raggiungere il fine di mortalità, cioè il nirvana, la congiunzione finale con la divinità, praticamente. E quindi vi è un'idea di superare prima tamas, che è l'elemento più grossolano, quello collegato a colore nero, collegato all'inferno dantesco, io dico. Poi rajas, che ha a che fare con le passioni, e io collego al purgatorio, realmente, infine, satva, che è il paradiso, chiaramente, essendo l'elemento più sottile collegato al colore bianco, all'illuminazione e a cose di questo tipo. Oltre che, però, questa connessione che si può vedere tra i guna e i tre inframondi, qua, appunto, torniamo alla ruota del divenire, dal bhava chakra, vediamo che al centro della ruota, al centro del mostro della ruota, ci sono queste tre fiere, queste tre animali, che possiamo connetter idealmente alle famose tre fiere di Dante, del primo cantico dell'inferno. Infatti, anche nella tradizione indo-buddista, queste tre animali, cioè il maiale, che rappresenta l'ignoranza, il cinghiale, che rappresenta la rabbia, il gallo, l'attaccamento alle cose materiali, il desiderio, sono simbolicamente tre veleni, così vengono chiamati, che intossicano gli esseri umani generando karma, quindi impedendogli l'illuminazione. Possiamo connettere, appunto, alla lupa leone e lonza del primo cantico dell'inferno dantesco, in quanto queste tre fiere nell'opera di Dante impediscono al poeta di raggiungere il collo illuminato dal sole, anche esso simbolo, quindi, dell'illuminazione. Ci sarebbero tantissime cose da dire, adesso cerco di, avendo pochissimi minuti, cerco di riassumere in poco tempo. Se noi confrontiamo la geografia sacra, il cosmo sottile induista e quello dantesco, che qua abbiamo messo due immagini, vediamo che effettivamente anche su questo ci troviamo delle grosse corrispondenze, cioè i sette cieli superiori, poi il pianeta, il nostro piano terreno, e poi i mondi inferiori o infernali, cioè i Patala o Naraka indiani. Questi Naraka e Patala, i mondi sotterrani, sono molto simili come concezione a quella dei cerchi infernali. Qua abbiamo messo due illustrazioni esemplificative che mostrano Yama, cioè il dio della morte, che accoglie le anime nel Yama Loka, nel suo mondo, nell'aldilà, e appunto vedete che ci sono varie immagini che mostrano i supplizi che subiscono le anime dannate nei sette o ventotto mondi infernali, che dir si voglia. Le corrispondenze però ovviamente non si fermano meramente a questo aspetto, ma per esempio si possono trovare grosse corrispondenze anche nella figura di Yama, Dharma, Pala e di Minos. Yama è il dio che accoglie l'anima nell'aldilà, nello Yama Loka o Pitri Loka, e Minos appunto nell'opera dantesca è anche il dio degli inferi che indirizza le anime nei vari cerchi e gironi. Vediamo che l'iconografia innanzitutto si collega con il toro, vediamo che sotto Yama vi è rappresentato un amplesso, un coito tra una donna e un toro, e noi sappiamo bene della leggenda di Pasife, il toro che darà vita al Minotauro. Yama, come Minos, è il primo morto, colui che ha scoperto la via dell'aldilà, ed è anche appunto il giudice infernale. Vediamo che Yama ha un serpente annodato intorno al collo che sta a significare i nodi del karma, e Minos pure in Dante viene rappresentato con questa coda serpentina che si avvolge intorno al corpo un certo numero di volte per definire il girone appunto in cui l'anima deve essere inviata. Questa iconografia ricorda in realtà diverse divinità antiche, qua ho messo Aion, anzi Fanes, Aion, Serapide e Zurvan, in cui si capisce che questa iconografia del serpente arrotolata intorno al corpo sa significare o i cieli oppure i mondi inferi a cui l'anima sarà destinata. Infatti Serapide è considerato sia un dio celeste che un dio infernale, invece le altre tre divinità che ho messo sono considerate divinità celesti. Adesso non so quanto tempo ho, ho ancora un po' di tempo, sì. Ancora tre minuti. Ok, allora andiamo un po' velocemente. Tra lo Yamalok e l'interno d'Antesco ci sono moltissime corrispondenze, qua non ho messo alcune. Cerbero trova il suo corrispondente in tre cani infernali che si trovano nello Yamalok, i diavoli che pungolano i dannati anche con gli Yamaduta che sono appunto i demoni aiutanti di Yama, la Cheronte trova il corrispettivo tra i Vaitarani che è un fiume che circonda appunto lo Yamaloka, eppure Caronte trova una sua corrispondenza nella tradizione indiana. Tuttavia vediamo che a seconda dei meriti e dei meriti dell'anima quando giunge presso Yama nella sua città, nella regione dello Yamaloka, può anche fuggire a queste torture, a queste dannazioni. ovviamente se durante la sua vita ha avuto dei meriti. Infatti c'è anche qui nella tradizione indiana una tripartizione del destino dell'anima. Laddove l'anima è più meritevole, quindi giunge nell'altro mondo, vede Yama non come divinità terrifica, ma come re di giustizia, e in questo caso appunto oltre alle dannazioni e alle torture ci sono anche i piaceri ultraterreni. Se invece l'anima è ancora più avanzata arriva fino al devaloka che è equivalente al paradiso dantesco e qui lo stesso Yama appare in una forma ancora più benevola. Altre corrispondenze che io ho riassunto si possono trovare con la tradizione sciamanica eurrasiatica, a partire dalla distinzione sottile degli inframondi superni e inferi, in numero di sette o nove, e questi mondi vengono visti come concentrici e ogni livello è superato dall'altro da un ostacolo o da un piolo che lo sciamano o l'operatore mistico deve superare. Molto interessante è anche il parallelismo che si può fare tra questo tunnel che nella tradizione sciamanica passa attraverso tutti i mondi, passando attraverso l'albero cosmico, e connettendo appunto tutti i vari diversi mondi superiori e inferi, e il natural budello di Lucifero, che nella Divina Commedia è un simbolo molto criptico che però allude allo stesso mistero a Dante e a Via Giglio che escono dall'interno giungendo alla montagna del Purgatorio tramite appunto questo natural budello. Visto che ho pochissimo tempo volevo concludere appunto riprendendo un altro argomento connesso che è quello della montagna del Purgatorio, che è un altro simbolo tipico delle culture tradizionali e ovviamente nella tradizione induista. Noi abbiamo il Montemero che deve essere superato, simbolo astiale dell'Axis Mundi, deve essere superato dall'anima che appunto punta al Devaloka, al mondo paradisiaco post-mortem, e vediamo qua, è una rappresentazione della montagna del Purgatorio dantesca, questa invece è una rappresentazione del Monte Meru, e vediamo che in cima al Monte Meru appunto c'è il Devaloka, il mondo degli dèi. Anche nell'opera di Dante, noi sappiamo che Dante dopo aver passato l'inferno attraversa tutto il Purgatorio, il Monte del Purgatorio, e poi alla fine si dedica al viaggio finale attraverso i sette cieli planetari, poi il cielo delle stelle fisse, poi quello del primo mobile, raggiungendo infine appunto l'elevazione mistica del livello massimo, ecco per così dire. ti ringrazio dallo spazio concessomi, e un saluto a tutti coloro che stanno seguendo ancora, grazie.